Attenzione, un minuto, one minute to the start, un in bocca al lupo ragazzi, siete meravigliosi e che vinca il migliore, la crema del movimento nazionale e internazionale oggi qui a Rasini in mattine in fronte della vita, a questa edizione numero 12 dell'Alta Patrina by Marathon. Attenzione, il momento è arrivato, 30 secondi, il sindaco Massignano Travucchi quando saranno 15 avrà l'onere e l'onore di sparare verso l'altro per decretare il PIA, attenzione, Perfetto, 15 secondi Bene, vai pronto con la musica Eccoli qua i primi 400, siete veramente tanti, buon applauso, grandi, grandi, grandi o per I primi 400 I primi 400